Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco seguia quando parla di sinistra-destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra-sinistra, 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 basta! Centosedicesima puntata di Carta Canta. Oggi vi racconto una storia. Una domenica mattina, il mio amico andrologo, il mio amico professore, Giovanni e Alessio, decidiamo di fare una passeggiata lungo la strada di Torricella, in realtà è Teramo, è via Le Cavour, via Giacomo Brudolini. Sulla sinistra, il solito mucchio enorme, gigantesco di immondizia. Ma non è questa la storia, questo è il proemio, l'introduzione. Tra il mucchio di immondizia troviamo una lettera appallottata del sindaco di Torricella Palumbi che scrive al sindaco Maurizio Brucchi. Si legge, Caro Maurizio, ricevo diverse lamentere da parte dei cittadini di Torricella Sicura, ma anche da parte dei tuoi concittadini. Circa la presenza di due cumuli di rifiuti presenti sul ciglio della strada provinciale numero 48 che collega Torricella a Teramo. Ti chiedo cortesemente di provvedere con la massima urgenza alla loro rimozione poiché già da di diverso tempo i nostri cittadini si lamentano di tale spreggevole problematica. Ti informo altresì che già da alcuni giorni ho informato di tale situazione il tuo capo di gabinetto, di segreteria, il signor Vinicio Ciarroni, rendendolo ai dotto che tali rifiuti insistono nel territorio del comune di Teramo. Questa lettera è diventata anch'essa un rifiuto perché è stata trovata lì nel mucchio. Due giorni dopo viene raccolta l'immondizia da parte degli uomini di Torricella Sicura, sì. E dopo c'è stato un altro enorme cumulo di rifiuti che è ancora lì. La Teramo Ambiente passa, guarda e va a ritirare l'umido, va a ritirare l'indifferenziato, eccetera. Non segnala nulla e la passeggiata di Teramani si fa tra i rifiuti e noi paghiamo, va benissimo. Bella immagine questa. Comunque, signor Sindaco, noi saliamo via Giacomo Brodolini, vogliamo fare questa passeggiata e veniamo fermati da una signora. E qui inizia la storia. La signora ha un figlio, si chiama Federico. Federico ha avuto una idrocefalia, le capisce bene. Guardi nella foto, lo guardi bene. Durante la nevicata, quella strada era bloccata. La signora ha chiamato la polizia municipale, la signora ha chiamato il comune. Stiamo arrivando. Perché Federico soffre anche di crisi epilettiche. E secondo noi, Federico ha la priorità assoluta in questi casi di emergenza. Secondo lei? Riguardi questa foto. Grazie a un vicino di casa, che ha messo una pala meccanica di fronte al trattore, è riuscito a far passare e dare sicurezza e tranquillità alla signora e a Federico. È qui che riconosciamo la civiltà di un comune, anche in stato di emergenza e anche senza soldi. L'ascolto dei propri concittadini che sono in difficoltà. Carta canta.